Differita il 6 settembre la discussione in consiglio comunale del DPP, documento di programmazione preliminare al Pug, piano urbanistico generale. Lo ha deciso all'unanimità questa mattina alla riunione dei capigruppo per evitare che l'estate possa creare defezioni in aula. Lo slittamento non comporterà alcuna ripercussione sugli atti del comune ed è stato deciso per permettere a tutti di essere presenti in una discussione di un atto importante per la città di Bari. Le prova generale di una parte della sinistra in vista della prossima campagna elettorale per comune e regione. Pronte le candidature per le poltrone più appetibili, sindaco e governatore. Sentiamo la nota del giorno di Michele Cristallo. C'è un berlusconismo di sinistra che va superato riprendendo il dialogo tra le forze sociali che a suo tempo determinarono quella primavera pugliese che portò all'elezione di Emiliano al comune e di Vendola alla regione. Ora Vendola e Emiliano sono ancora in sella ma in procinto di lasciare perché entrambi aspirano alla ribalta nazionale. La sinistra si sente un po' allo sbando tant'è che in occasione del voto referendario ha perso colpi. Allora occorre rinserrare le file e si dice cominciare a lavorare per le amministrative prossime. Ma sarà proprio così. Le perplessità nella stessa sinistra sono tante. Il sospetto che si tende già ora di mettere il cappello sulle future poltrone è forte. Tant'è che sono numerosi coloro i quali sono convinti che la riunione dell'altro ieri nel Fortino sia stata una sorta di prova generale per lanciare la candidatura al sindaco di Antonio De Caro, attualmente consigliere regionale. Fuori i partiti si dice sì al protagonismo della base. Vedremo come andrà a finire. Questo tipo di dibattito cade del resto in un momento molto delicato per la vita del comune e della regione. Vendola ha molte gate da pelare. La sanità, la disoccupazione in Calzania, l'addizionale IRPEF, l'introduzione dei ticket, le proteste dei sindaci per il piano sanitario di chiusura di numerosi ospedali. La richiesta non ultima, la richiesta dei consiglieri ex e in carica di recuperare il 10% delle indennità dal 2006 ad oggi. Non meno agitata la situazione al comune. Emiliano ha da combattere i mugugni nel Partito Democratico per l'impasto in giunta, sentenze di rimporso per danni per una cinquantina di milioni, polemiche con il baricalcio per il recupero dei rispettivi debiti e crediti, cittadella della giustizia punta per otto e tutte le altre vertenze aperte. E non ultime, proprio di questi giorni, la chiusura del lungomare e la lotta alle fornacelle abusive. Quindi ce n'è da lavorare, altro che berlusconismo e cesarismo. E voltiamo pagina, chiese, luoghi di culto, palazzi e dimore storiche, enogastronomia e piccoli borghi. Sono i temi della sesta edizione di Città Aperte, il progetto dell'assessorato al Mediterraneo Cultura e Turismo della Regione Puglia, realizzato dalle aziende di promozione turistica e dall'Agenzia Puglia Imperiale. Novità di quest'anno, la realizzazione di 350 audioguide e videoguide scaricabili gratuitamente dal portale viaggiareimpuglia.it e la creazione realizzata da Innova Puglia dell'applicazione per iPhone Puglia Reality che consentirà di scoprire luoghi di interesse più vicini all'utente. Infine nasce Puglia XP, la community dedicata ai viaggiatori che consente di raccontare e condividere le proprie esperienze di viaggio. Ed ora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Ampio soleggiamento e caldo, vento che soffia da levante con intensità di 7 km orari e temperature comprese tra i 25 e i 38 gradi. In chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet telebari.it e radiobari.net ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie. 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 Grazie.